ciao davide grazie per il tuo tempo e innanzitutto ti voglio chiedere insomma come stai come cosa fai come sta andando un po tutto se ci puoi raccontare un po certo ciao guarda si è appena finito adesso la stagione qua un universo san francisco è stato il mio primo semestre perché mi sono trasferito a gennaio preso il volo primo gennaio alle sette del mattino quindi molto bene chiaramente all'inizio c'è stato un periodo di ambientamento necessario quando si trasferisce hai sempre bisogno di avere ok quindi l'inizio tosto per abituarsi un po ai ritmi quali allenamenti te lo studio però poi diciamo ho preso l'abitudine e ora mi trovo molto bene ok quindi no sono contento e sicuramente c'è un'esperienza di sono contento di aver iniziato ok e com'è stato allora questo è il tuo primo volo insomma per l'america era abbastanza emozionato allora il sicuramente allora io in america c'è già stato un po di volte però non è la stessa cosa chiaramente andare in vacanza o comunque andare per periodi brevi rispetto a partire per per un semestre intero ok è stato un lungo perché ho dovuto prendere tre aerei ok poi c'è nessuno in ritardo il viaggio totale 23 ore ok la cosa divertente adesso raccontare ma non è stata conservato lì è stata che praticamente la prima sera io dovevo dormire a casa di un compagno di squadra che però non era in casa quindi si era organizzato per lasciarmi le chiavi ok il coach doveva venire ma sento che sono arrivato troppo tardi certo mezzanotte non è venuto a prendere ok allora sono arrivato lì trovo le chiavi entro nel nel palazzo però mi sono reso conto appena entrato che il compagno non mi aveva detto il numero di appartamento ok io ho iniziato a provare a entrare in tutte le porte ma ok alla fine una porta si apre quindi perfetto entro appartamento vuoto completamente vuoto probabilmente dovevi portarti tutta la roccia dovevi comprarti l'arredamento non è possibile no invece no neanche praticamente dopo che provo a chiamare il mio compagno dopo mezz'ora fortunatamente mi risponde ok l'appartamento non era quello era un altro appartamento in cui c'era un'altra chiave sotto lo zerbino ok quindi ho scoperto che c'è una chiave del palazzo che apre un appartamento vuoto cioè questa qua è stato il mio inizio complicato insomma un inizio un po' strano un po' insolito però poi insomma ti sei trovato bene insomma molto bene sì 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 ok tu adesso sei lì per fare il master giusto sì master in sport management ok l'ho inizio a gennaio mi sta piacendo molto è particolare ho pochissime elezioni durante la settimana per cui ho molto tempo diciamo per giocare a tennis e per studiare infatti è fatto più che diciamo ci sono diversi compiti da fare tra una settimana e l'altra perché è spalmato in due anni e quindi ci sono lezioni anche durante l'estate per questo che magari durante diciamo la settimana è un po' più di tempo rispetto a magari agli undergrad che a maggio hanno finito queste lezioni vanno anche durante l'estate quindi per quello che sono un po' più diluite nel tempo quindi tu praticamente sei lì tutto il tempo cioè quando è che torni in italia sì allora in realtà sì quelli che fanno il mio master sono qua tutto il tempo ok io no mi sono riuscito a organizzare in modo tale che saltando solamente un corso e facendolo un po' più avanti posso tornare in italia due mesi durante l'estate anche perché voglio sicuramente giocare qualche torneo qualche future in italia ok non vorrei perdere le punte tipo in doppio che ho e quindi mi piacerebbe fare qualche torneo tornare in italia ok e questo sistema scolastico che c'è in america come come ci stai trovando allora sicuramente diverso vanno molto più sul pratico e meno o meno sulla teoria non mi trovo a studiare magari su libri o slide particolari anzi cioè sono più magari mi danno da leggere tre capitoli di un libro e poi magari scegliere un argomento e scriversi un paper quindi diciamo un testo di quattro tre pagine relativo a quello che ho letto relativo a quello che sto spiegato in classe quindi è un po' più pratico quindi le differenze secondo me sicuramente una è questa e poi i professori mi sembrano più diciamo un po' più interattivi cioè un po' più vivi in classe diciamo sono quattro ore di lezione quando quando vado perché sono lezioni alla sera però tendenzialmente non sono mai pesanti cioè anche se magari sono un po' stanco perché la mia giornata è iniziata alle sette del mattino in palestra però alla fine non mi pesa andare a lezione alla sera e raccontaci un po' della tua giornata tipoli sì allora gli allenamenti di tennis sono sempre dalle 12 alle 15 ok quindi abbiamo tre ore di tennis sicuramente sono lunghe cioè rispetto all'italia quando pranzi poi se sei dentro infatti come orario non mi fa impazzire l'orario perché abbiamo andato alle 12 alle 15 significa che io io faccio praticamente un pranzo con una pasta alle 10 ok e poi faccio un altro pranzo alle 4 cioè perché intanto non mi va di cenare l'orario che c'erano qualche tipo 6 e mezza 7 quindi rimango con un orario italiano 8 e mezza e alle 4 faccio una sorta di pranzo post allenamento più più pesante rispetto magari alla pasta delle 10 questo è come mi sono organizzato mi sono trovato abbastanza bene ok poi durante l'allenamento aveva le barrette varie che qua vanno passi per barrette energetiche ne hanno 6 miliardi di tipi quindi tutte le 3 sì dalle 12 alle 3 è il periodo di tennis però in realtà mi va dalle io non sei obbligato però dalle dalle 10 45 11 sono nella training room a fare recupero fisico fisioterapia vado nella vasca calda fredda sia prima che dopo allenamento quindi diciamo che il periodo che mi prende va dalle 11 alle 4 sicuramente presa dal pre e post fisioterapia dell'allenamento ok la atletica diciamo fa la facciamo due o tre volte a settimana due o tre volte settimana alle 7 del mattino ok che da un certo punto di vista a volte anche comodo però è un po' pesante più che altro non essere attaccato all'ora del tennis cioè faccio dalle 7 alle 8 poi torno a casa devo studiare però sono stato tendenzialmente quindi quello è un po' non era un po' strano e e quindi è un po' così come organizzato ok però diciamo che alla fine se uno si organizza bene c'è anche questi reali qua alla fine ce la si fa sì sì ok e in questo ti aiutano anche i professori magari i compagni o il coach allora sicuramente per me è un po' diverso perché essendo un master è un po' diverso comunque ho un numero di lezioni minori ed è un po' più di lavoro da fare per conto mio quindi non è che ho problemi di orari da combinare con il tennis non ho problemi di orari sicuramente i miei compagni so che vengono aiutati cioè se hanno problemi di classi sono molto flessibili i professori aiutano e anche dal mio punto di vista per esempio il coach mi ha aiutato quando siccome non dovevo perdere una lezione perché essendo poche lezioni è una lezione importante è riuscito a modificare anche il il viaggio dovevamo partire per san diego per cinque sei giorni di partita è riuscito a modificare un po l'orario del volo per potermi far andare a lezione quindi sicuramente pongo un'attenzione al fatto di al fatto che la scuola e l'università è importante e tu personalmente riesci comunque con una scherzo così impegnativa a gestirti bene quando fare i compiti quando fare studio di noi ci riesco è chiaro durante la giornata è la giornata divisa tra tennis e studio non è che ci sono chissà qual altra attività parte forse uscire nella farla spesa quindi durante il giorno quello però poi una volta che prende il ritmo poi alla sera magari fai la cena con gli amici durante il weekend esci quindi comunque sì durante la settimana la vita è tennis e studio però comunque c'è anche una vita normale al di fuori ok e come livello lì come 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 è in comparazione con un livello con un ranking italiano sì allora siamo in divisione 1 e il livello è alto sinceramente è alto abbiamo incontrato secondo me anche ci sono squadre tipo san diego o pepperdine a los angeles ci sono due tre squadre che secondo me c'è il livello molto alto direi che comunque il numero uno della squadra 21 secondo me secondo me sì e poi chiaro si va più al numero sei della squadra che potrà essere 24 ok magari ora io sto parlando delle squadre più forti probabilmente non nelle squadre più deboli beh tipo nel vostro caso san francisco è nel nostro caso secondo me numero sei 24 25 non 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 secondo me anche 24 sì sinceramente sì quindi tu con che classifica sei sei arrivato in america io sono arrivato vabbè io ero 24 un anno e mezzo fa poi non ho giocato molto penso di essere il partito che ero 25 ok e per quanto ho iniziato a giocare da numero ho giocato anche la partita da numero due a numero tre ma secondo me perché cioè non lo so mi ha visto giocare era convinto che potessi giocare a numero due numero tre invece secondo me ero un po sotto il livello rispetto a numero due numero tre quindi poi iniziato a giocare numero quattro ho giocato anche da numero cinque però tendenzialmente forse numero quattro però cambiava molto anche in base a comandava le partite decideva di cambiare l'ordine dei giocatori quindi è un po complicato da dirti il numero esatto però sì secondo me come come livello è stato era era abbastanza alto sinceramente poi sarà anche che sono un po influenzato dal fatto che abituarsi al tennis è stato difficile cioè io mi sono abituato in generale alla vita molto bene al tennis meno bene perché le regole sono diverse per quanto lo sport è lo stesso comunque giocare 40 pari punto secco il doppio un set solo non c'è riscaldamento prima di entrare in campo quindi ti scaldi con i tuoi compagni però poi quando vai a giocare la partita giochi giochi entra in campo e inizi sinceramente sono cose che per quanto pensavo è sempre tennis però no cioè cambia comunque il doppio un set solo punto secco cioè veramente dura 25 minuti quindi quello è un po un problema cioè non è come giocare un doppio normale in italia è la sfida insomma che c'è nel college insomma anche per questo che secondo me che lo spirito della squadra deve essere molto alto e che c'è molta competizione quindi da un lato magari è negativo per noi che veniamo dall'Italia di abituarsi a un sistema così però magari è positivo perché ci fa ci insegna alcune cose che no sicuramente no sicuramente ti insegno un sacco cioè secondo me una volta che torno in italia hai ti sei abituato a certi comunque livelli di attenzione tensioni diversi che sicuramente aiutano qua ti trovi con gente che è abituata a tutto questo e ti senti un po' spesato sinceramente all'inizio soprattutto però secondo me cioè è stata la prima stagione già alla fine mi sentivo molto meglio cioè mi sentivo molto più abituato a entrare in campo in partita ai ritmi diciamo di tutta la squadra e con la squadra come ti trovi cioè loro ti hanno invitato anche in questo spirito di adattamento sì no no con la squadra bene con la squadra bene ci troviamo bene anzi mi dispiace che perdiamo tre giocatori adesso tre quattro giocatori perché erano era l'ultimo anno quindi diciamo ci sarà un po' una squadra un po' nuova prossimo anno però no ci siamo trovati tutti bene abbiamo fatto qualche viaggio per andare a giocare in giro e ci siamo sempre divertiti quindi non alclima nella squadra è stato ottimo in quanti siete in squadra siamo solo sette quindi era un po' un problema spesso perché cioè come puoi immaginare giocando tanto cioè che stiano bene in sette era non era una cosa molto diciamo comunque diffusa non accadeva spesso e quindi questo era un po' un problema sinceramente perché giocando in sei essere in sette cioè poi per chi non lo sa e sono sei singoli e singoli tre doppi quindi sei persone devono giocare sempre ma sì ma più che altro non è tanto il fatto cioè tu puoi immaginare due settimane ma cioè per quattro mesi devi essere devi essere che in sei su sette siano pronti a giocare e è andata bene al coach che che lo resta che in sei erano sempre pronti a giocare però una volta è caduta mi ricordo che in due non erano qual top però uno dovuto giocare per forza quindi mi auguro che prossimo anno saremo in otto però non lo so quante partite fate più o meno quando siete in season ma allora la conference che quella cui tengono di più perché è quella che poi ti dà l'accesso al torneo diciamo finale NCA siamo in dieci squadre quindi sono due partite però prima ci sono diverse partite che abbiamo iniziato da metà gennaio come numero secondo me sono state 25 incontri più o meno come numero più secondo me era così la schedule era questa quindi meno male 25 incontri tutti di livello alto insomma sì sì diciamo che ok la conference è quella di livello dove c'è sempre più tensione il livello è alto durante la stagione incontri magari anche no abbiamo incontrato squadre magari non di divisione 1 quindi comunque differenze di livello diverse però comunque questo questo fatto insomma di allenarsi tanto con livello alto e poi metterlo in pratica in partite soprattutto con 25 partite che ripetiamo se ci sono sei singoli e tre doppi quindi uno fa sempre un singolo e un doppio insomma credo che ti aiuta tanto a livello tennistico anche a migliorare il tuo livello sì no sicuramente cioè giochi tanto e allenamenti almeno qua sono diversi rispetto a quelli che io ero abituato io ero abituato ad allenarmi meno però più intensamente chiaramente tre ore non possono essere intense come quando in Italia magari ti alleni un'ora e mezza due ore cioè è fisiologico quindi i allenamenti sono un po' diversi secondo me sono fatti così anche perché è un po' come sono le partite perché giocando doppio e singolo di fila sta in campo per in campo sta in piedi comunque alla fine per tre ore cioè e quindi un po' ti devi abituare per quanto il doppio non è che muori dalla fatica però comunque sei teso giochi la partita appena finisci il doppio devi entrare in campo in singolo cioè subito che è una cosa un po' un po' tosta anche quella cioè finisci la partita in singolo c'è il doppio 7-5 e devi entrare immediatamente in campo in singolo che è un po' una cosa che cioè hai dei cali di tensione quindi devi essere abituato a gestire il tempo di queste tre ore tendenzialmente dopo in singolo tu come obiettivo c'hai anche quello magari di intraprendere poi la carriera da professionista o di entrare in circuito allora sicuramente un po' il sogno di provare una carriera in doppio più che in singolo ce l'ho sempre avuta e qua sicuramente è un modo per giocare il doppio perché in Italia sicuramente non si gioca molto ho fatto qualche buon risultato l'anno scorso durante l'estate in future per quello che vorrei giocare lì quando torno e chiaramente poi l'idea adesso è difficile giocarli mentre sei qua durante la stagione è impossibile durante la stagione è impossibile non so se sarà possibile nella fall quindi da agosto a dicembre se avremo qualche possibilità di giocarne qualcuno però sicuramente una volta finito il college magari mi piacerebbe provare a fare un po' di più di tornei appena ne avrò la possibilità poi vedremo dipende un po' come va anche qua la stagione e le partite però secondo te comunque linea di massima e gli allenamenti e il livello che c'è lì ti può aiutare sì ma per chiunque voglia giocare poi per chiunque voglia avere poi una carriera nel tennis però non si può rischiare di smettere completamente di studiare penso sia la scelta migliore perché diciamo ottieni una laurea nel frattempo però veramente cioè ti alleni tanto e se vuoi allenarti di più hai la possibilità di allenarti di più cioè se io volessi allenarmi di più anzi qualche volta è successo che abbiamo fatto qualche allenamento in più il coach è sicuramente disponibile a farlo o comunque se proprio il coach non riesce a venire il campo è a disposizione quindi come disponibilità dei coach non ci sono problemi anche perché loro sono i primi che ci tengono a farti migliorare e quindi anzi cioè sinceramente l'attenzione che ricevi del coach almeno nel mio caso in America fai fatica a volte ad avversare l'Italia anche quando è un tuo coach che ha tuo diciamo pagamento quindi non è una cosa banale ok quindi immagino che il tuo rapporto col coach è abbastanza forte no? sì no è forte soprattutto perché comunque si vede quanto lui ci tiene a farti migliorare o comunque alla squadra in generale chiaro è stato anche tosto diverse volte non direttamente come immaginare con la squadra cioè perché poi alla fine ci tengono a risultare tanto e quindi ci sono stati dei momenti dove un po' tra noi della squadra ci guardavamo come dire ma cosa sta dicendo perché per quanto capiamo che magari il risultato è però ogni tanto certe reazioni ci sembravano troppo un po' perché magari alcuni di noi non siamo abituati perché ce n'erano comunque alcuni europei non siamo abituati a queste reazioni io che ho giocato a calcio in realtà sì quindi mi ha ricordato un po' l'ambiente del calcio e quindi certe reazioni un po' ci hanno un po' destabilizzato ogni tanto però poi alla fine quando si va all'allenamento la settimana ricomincia da zero e ci tiene sempre magari aiutano queste reazioni qua a darti una carica in più magari per la settimana dopo sì in realtà secondo me non ho approvato secondo me esatto approvato secondo me non ho avuto quel risultato sperato però sì sicuramente avrà provato a toccare diversi stimoli ok e tu hai detto che stai facendo il masterly quindi tu hai fatto prima l'università in Italia l'hai fatto in America io ho fatto l'università in Italia mi sono laureato in economia aziendale in Italia avevo fatto anche un periodo in Spagna in Erasmus sei mesi in cui mi ero riuscito a organizzare allenandomi in un'accademia ad Alicante quindi diciamo avevo avuto una prima esperienza all'estero che comunque secondo me mi ha aiutato un po' a prendere la decisione di partire per l'America comunque è stato un po' un test come dire ok mi sono trovato benissimo posso farlo non volevo neanche più tornare a casa dalla Spagna quindi sicuramente mi ha dimostrato il fatto che potessi stare benissimo fuori casa e quindi partire per l'America era un po' meno faticoso rispetto magari a se fosse stata la prima esperienza dal nulla però sì vai prego prego no diciamo che tendenzialmente non ho incontrato molte persone che hanno fatto il mio percorso cioè la maggior parte sono partiti subito dopo il liceo però secondo me è un modo intelligente soprattutto che qua ci sono molte occasioni per poter lavorare quando si finisce un master o comunque si finisce l'università e quindi arrivarci in questo momento sono anche pronto nel caso se ci sono delle belle opportunità magari restare a lavorare o comunque avere una breve esperienza prima di tornare in Europa cioè ci sono diverse occasioni tu in Italia quando stavi facendo l'università riuscivi a combinare studio e tennis? riuscivo però sicuramente l'impegno scolastico secondo me era più faticoso ma soprattutto più che altro perché a volte potevi essere sfortunato quindi magari in un periodo c'erano due o tre tornei importanti che dovevi giocare e l'università che magari avevi due esami e quindi non era ovviamente considerato il fatto che tu dovevi combinare i due impegni e poi magari periodi dove eri più tranquillo d'estate e allora potevi giocare di più però sono sempre riuscito a combinare le due cose per un certo periodo facendo più fatica qua secondo me in generale è un po' più considerato il fatto che c'è una vita anche sportiva e quindi diciamo se hai degli impegni comunque lo fai per la squadra dell'università non sono dei tuoi impegni personali quindi sono chiaramente considerati ok quindi credi che questa combinazione tra scuola e tennis in America sia tutto un po' più facilitato sì aiutano un po' insomma sì sì no sicuramente è proprio la loro mentalità che sanno che i studenti atleti hanno una vita sportiva e una vita scolastica è un po' come nel master che molti miei compagni lavorano e quindi i professori sanno che hanno una vita scolastica e una vita lavorativa per gli atleti sanno che hanno una vita scolastica e una sportiva quindi è considerato cioè fa parte diciamo del loro pensiero cioè sanno che abbiamo grossi impegni quindi lo considerano e cercano di aiutarci e quindi poi di conseguenza insomma cercano di venirti incontro in certe situazioni magari esami importanti sì sì o loro o i coach cioè in base comunque se per caso i professori o comunque non si riesce a trovare una soluzione allora la si cerca dal punto di vista tennistico nel caso quindi se nel mio caso a gennaio per esempio abbiamo potuto prendere il volo il giorno dopo è stato fatto in modo tale che potessi risolvere l'impegno universitario ma altrimenti si cerca una soluzione con i professori e non ho mai sentito diciamo una volta in cui non è stata trovata una soluzione per gli studenti atleti e la tua motivazione qual è stato il tuo motivo cos'è che ci ha spinto a andare in America e fare il master? ma quello che mi ha spinto a prendere e partire è stato il fatto che ho sempre immaginato questa grande occasione di partire per l'America e giocare a tennis nel college però ci avevo pensato subito dopo il liceo ma non l'avevo fatto e quindi comunque mi era rimasto nella testa il fatto che se volevo farlo lo devo fare ora e quindi quello è sicuramente la motivazione cioè provare questa esperienza il secondo motivo è sicuramente il fatto di studiare in America che è un altro tipo di studio e per quanto riguarda i master in generale cioè qua sono comunque di alto livello e quindi comunque ti portano ad avvicinarti molto al mondo del lavoro e sono molto pratici quindi quello secondo me è un altro elemento importante la lingua perché per quanto comunque sapessi bene l'inglese ho sempre voluto riuscire a raggiungere un livello per cui non facessi proprio fatica a parlarlo e diventare veramente cioè poterlo parlare e lavorarci un giorno senza veramente zero problemi e quindi vivere qua è sicuramente il modo migliore e poi dal punto di vista sportivo perché comunque è un po' un'ultima occasione secondo me per poter provare qualcosa diciamo a livello tennistico perché hai a disposizione un coach anzi un coach poi l'assistant coach trainer persone che ti seguono cioè un team che in Italia o comunque in Europa dovresti prenderti e comunque pagare a parte quindi è una scelta un investimento importante che invece qua non hai anzi sono loro che vogliono metterti a disposizione in modo tale che tu stia al meglio e quindi l'attenzione che pongono verso di te è il contrario rispetto cioè in Italia sei te a dove cercare l'attenzione di qualcuno e comunque fare un investimento di denaro e di tempo qui sei tu che ti metti a disposizione perché sono loro che vogliono che tu migliori e raggiungi un alto livello e quindi comunque ti danno importanza ed è bello comunque è una grande occasione e parlando della lingua com'è che tu all'inizio lo sapevi abbastanza bene l'inglese hai fatto un po' fatica quando sei arrivato allora io sono partito secondo me comunque cioè da un buon livello lo sapevo bene bene per quanto un ragazzo italiano lo possa sapere chiaramente quando vieni qua ti rendi conto che non è al livello delle persone che vivono qua ma quello lo sapevo pure io però un po' di fatica secondo me solamente le prime lezioni magari ma più che altro non è tanto cioè secondo me è più l'attenzione cioè se lo ascolto e lo pongo attenzione non ho problemi però se in Italia magari ti distrai un secondo se anche perdi il filo le prime due parole lo capisci subito magari qua hai bisogno di un po' più di tempo però io sinceramente non ho avuto particolari problemi con la lingua è vero che avevo vissuto un semestre in Spagna che avevo imparato lo spagnolo però parlavo anche molto inglese perché tutti gli studenti con cui erano internazionali quindi ho avuto un primo periodo comunque di ambientamento già quando ero all'estero però qua non ho avuto particolari problemi ok e invece il posto lì come ti trovi a San Francisco? beh sicuramente sono fortunato a vivere in una città come San Francisco cioè è bellissima ho avuto l'inizio cioè le prime due settimane e venti giorni ho avuto tutti i giorni la gente diceva che non era mai successo io ero appena arrivato non vedevo il sole non capivo dove ero arrivato però poi è migliorato quindi c'è stato i giorni a gennaio e anche a fine gennaio gli ultimi giorni dove c'era il sole stavo veramente in maglietta quindi il clima è ottimo secondo me ora già inizio a pensare che in Italia è già meglio perché San Francisco è un po' particolare l'estate non fa comunque particolarmente caldo alla sera fa sempre fresco c'è un po' di vento quindi secondo me tipo gennaio, febbraio, marzo è meglio qua ma poi da aprile e maggio in Italia penso si stia meglio però siamo vicini al centro quindi siamo cioè in macchina ci metti un quarto d'ora ad andare in centro se prendo l'autobus ci metto 35 minuti ma per essere in America niente e poi la zona del campus è bella non è il tipico campus americano enorme è un campus piccolo in cui lo gira a piedi in 5-10 minuti quindi comunque è piccolo però è carino la zona è molto tranquilla la si gira bene e siamo attaccati a Golden Gate Park che è un parco immaginati tipo Central Park quindi bellissimo che poi porta a Golden Gate Bridge quindi comunque come zona e posto è bellissimo e poi come occasioni lavorative San Francisco è sicuramente una delle migliori città americane ci sono un sacco di occasioni un sacco di opportunità persone che aprono startup qua ce ne sono veramente migliaia parlando adesso magari un po' dell'ambito lavorativo visto che tu comunque stai facendo un master e sei più grande magari di tutti gli altri ragazzi che intervisti com'è? sei già iniziato un po' nell'ambito lavorativo hai già avuto richieste come sta andando questo? allora vabbè sì che poi in realtà non so se sono tanto più grande comunque ho 21 anni ancora però avendo iniziato la scuola l'anno prima essendo già partito qua sono già avanti nel processo comunque sì occasioni arrivano per esempio abbiamo cioè fa parte del mio master il tirocinio è uno dei requisiti quindi di occasioni ne abbiamo un sacco cioè ricevo email una volta al giorno di occasioni per cui fare application proprio per noi del master è chiaro in questo momento non sto facendo application perché fino ad ora in questo periodo della stagione era impossibile però da agosto a settembre ho sicuramente intenzione di iniziare qualche esperienza però veramente occasione abbiamo un sacco per esempio anche abbiamo l'occasione di studiare qualche lezione ai bambini del circolo dove ci alleniamo quindi se vogliamo fare qualche lezione di tennis di solito ci danno la possibilità di farlo per quanto riguarda aziende vengono spesso aziende a parlarci o comunque noi andiamo a fare delle presentazioni nelle aziende quindi abbiamo creiamo un bel network diciamo conosciamo molte persone quindi da quel punto di vista lì un master fatto per portarti poi al mondo del lavoro ok quindi ci sono un sacco di opportunità insomma da sfruttare no tantissime cioè sicuramente rispetto a come possono esserci in Italia ogni giorno diciamo sento dire che magari un mio amico prende un lavoro un compagno al master che inizia un tirocinio cioè succede tutti i giorni quindi se uno vuole iniziare non ha alcun problema a trovare un'opportunità solamente io che in questo momento non ho ancora iniziato ci ho solamente diciamo aiutato il mio coach in qualche lezione con i bambini ma perché non potevo iniziare nulla però dal prossimo semestre ho sicuramente l'intenzione di iniziare anche perché penso che fare un'esperienza lavorativa in America sia importante anche un giorno in cui volessi tornare in Europa a lavorare vabbè sicuramente qualcosa da mettere nel tuo curriculum che può fare ma riusciresti comunque a fare lavoro scuola e tennis allo stesso momento per quello che infatti ora non ho ancora iniziato ma penso che nella fall penso di sì penso che avremo più tempo chiaramente quello che voglio fare è qualcosa di flessibile ho bisogno di un tirocinio comunque flessibile e part time quindi non potrà essere chissà quali tipo di lavoro full time quello lo dedicherò una volta che finirò la stagione il prossimo anno in cui avrò diciamo un periodo in cui sono qua e avrò la possibilità di iniziare qualcosa full time nel frattempo continuare a giocare a tennis ma in maniera diversa quindi quello che posso fare è sicuramente qualcosa di part time e di flessibile quello sì ok beh è già buono insomma che riesci a fare a integrare queste queste tre cose nello stesso insomma non è non è una cosa da poco e per quanto riguarda il cibo invece come come ti trovi in America ma allora sono in una città in cui non mi posso lamentare perché comunque tutto quello che vuoi lo puoi avere è chiaro che però se puoi avere cioè se puoi mangiare bene è caro cioè San Francisco è una città cara non vorrei cioè secondo me il doppio cioè tendenzialmente spendi il doppio cioè infatti cioè se puoi mangiare italiano bene spendi il doppio fisso infatti cerchi magari di non farlo ma voi avete una pizza dove mangiate o mangiate a casa allora io mangio sia a casa sia a mensa perché solamente i freshman quindi quelli che arrivano primo anno undergrad sono obbligati a dormire in campus e a mangiare in campus dal secondo anno in poi ognuno è libero di fare quello che vuole io ho una cosa un po' ibrida per questo primo semestre il prossimo anno sarà per conto mio totalmente però avevo una cosa ibrida per cui avevo una certa quantità di pasti in mensa e il resto dove volevo io quindi ho mangiato un po' in mensa e un po' a casa la mensa secondo me non è così male cioè è chiaro che rispetto a mangiare in Italia non è la cosa migliore del mondo però ci sono diverse scelte cioè hai ampia scelta sono sfortunato che ci sono due posti il migliore è aperto tipo tra le 12 le 15 però comunque se sai prendere le cose giuste ora che l'ho capito puoi mangiare anche bene cioè non mi sto trovando troppo male per il cibo ok e una cosa ancora non ti avevo chiesto le strutture invece per sia tennis che scuola le classi come si sta trovando? allora sì per quanto riguarda le classi io ho lezioni downtown quindi vado in centro a San Francisco quindi siamo in un bel palazzo in mezzo tra i grattacieli perché per il master comunque le diverse lezioni sono lì per quanto riguarda gli undergrad invece hanno lezioni più qua on campus però sono belle cioè ho visto qualche qualche aula mi sono sembrate comunque tutte belle e tendenzialmente è un'università privata e ci sono le classi tendenzialmente non vanno più di 30-35 studenti quindi hanno tutti un rapporto personale con il professore per quanto invece riguarda il tennis la struttura allora non è universitaria cioè ci appoggiamo a due diverse strutture perché comunque essendo in una città è difficile che l'università comunque abbia tutto quindi per quanto riguarda i campi da tennis andiamo quattro volte a settimana andiamo a giocare al Golden Gate Park quindi in mezzo al parco ci sono c'è questo circolo di tennis che ha 12 non so 14 campi da tennis fa niente male insomma bellissimo no no cioè siamo in mezzo al parco quindi bellissimo e un giorno a settimana andiamo in un altro circolo che è anche questo molto bello è un po' più antico ci sono è un po' più classico circolo di tennis italiano quindi ci sono i soci che giocano ma anche quello è molto bello e quindi ci appoggiamo queste due strutture però diciamo bellissime cioè su quello non ci possiamo lamentare quindi tu c'hai un po' un po' la fortuna sfortuna di essere proprio in centro a San Francisco quindi magari qualcosa non hai che altro dell'università c'è un po' un po' mi dispiace magari non avere l'esperienza del grande campus americano però ho tanti altri vantaggi cioè sono comunque in una città e alla fine cioè se uno si può immaginare che gli piacerebbe vivere comunque in Europa sono in una città europea cioè è una città ci sono gli autobus ti puoi muovere con gli autobus che in America comunque non è banale con un Uber sono 10 minuti in centro quindi cioè sono una città europea sono in America ma comunque si vive bene come una città europea è chiaro il campus non è enorme e e quindi magari il numero di studenti non è gigantesco però sinceramente preferisco così piuttosto che essere magari nel mezzo del nulla e come conoscenze e vita sociale anche se c'è una scherzo così impugnativa riesci sempre magari a uscire un po' sì su quello anche perché non ce la farei se no cioè abbiamo no vabbè sicuramente con la squadra abbiamo un bel gruppo con la squadra femminile anche di tennis quindi loro hanno una casa solamente di tenniste quindi il weekend della sera tendenzialmente organizziamo sempre qualcosa a casa loro poi ho diciamo tre gruppi uno quello relativo alla squadra di tennis uno relativo a quelli del master che comunque siamo perché rispetto all'undergrad che si conoscono cambi tante classi quindi magari conosci tanti studenti ma magari non sviluppi così tante relazioni noi siamo gli stessi 33 e quindi comunque ci conosciamo ormai bene quindi abbiamo un bel gruppo e poi un gruppo di italiani che chiaramente ovunque tu vada trovi e quindi anche qua San Francisco abbiamo un bel gruppo con diversi italiani beh è bello così insomma avere anche un rapporto extra tennistico e insomma secondo me è una cosa molto carina sì sicuramente stare a San Francisco magari avere anche l'opportunità di girare un po' in città vedere cose che magari non puoi vedere no ma anche le zone intorno sono cioè sono bellissime e tra aspettavi che era così? allora mi aspettavo che San Francisco fosse bella quindi comunque avevo altre aspettative mi aspettavo che l'impegno tennistico fosse tosto e lo è stato quindi comunque devo dire non ci sono cose che non mi aspettavo completamente forse mi aspettavo per esempio quello che dicevo della gestione dei risultati del coach un po' diversa comunque un po' meno che diciamo un po' più calma come reazione invece comunque abbiamo ricevuto reazioni un po' toste quello è stato un po' inaspettato secondo me quindi quella forse è l'unica cosa inaspettata che mi sono trovato le altre tendenzialmente tutte cose che un minimo mi aspettavo ok ok e tu prima di andare lì avevi qualche timore magari avevi un po' di paura avevi non so pensavi che magari non fosse la scelta giusta com'è che è stato questo questo aspetto allora sinceramente non avevo grossi grossissimi dubbi che fosse la scelta giusta da fare cioè anzi anche quando all'inizio non mi sono trovato quella grande perché all'inizio era stato faticoso soprattutto tanto perché questo notte ho detto pioveva tutti i giorni e quindi non abbiamo i campi coperti perché tendenzialmente qua se c'è vento però non piove molto in realtà è piovuto però dicono che non piove molto e quindi i campi coperti non ce li abbiamo e mi mandavano cioè mi mandavano andavamo in un campo coperto a mezz'ora di macchina che però i campi ce li avevano sono alle 6 del mattino quindi mi sbagliavo tipo alle 4 e mezza quindi questi sono stati i primi 20 giorni a gennaio quindi per quello che dico non è stato proprio facile all'inizio ok però detto questo pure in quel momento lì non è che cioè magari non stavo alla grande però non avevo dubbi sul fatto che fosse la scelta giusta da fare cioè avevo ben chiaro in testa il fatto che volevo studiare in America volevo fare un master qua volevo giocare a tennis qua quindi grossi dubbi no è chiaro quando parti un po' di timori che magari non tutto andrà bene che magari hai paura che non ti trarerai bene a livello tennistico a livello di amicizia cose varie ma quelli sono timori che per forza hai cioè non è che puoi pensare di partire ed essere sereno al 100% ma sono tutti secondo me piccole paure e timori che uno supera pensando al fatto che è quello che vuoi fare ed è la scelta giusta cioè secondo me in momenti difficili superi proprio pensando che fa parte del percorso e della tua crescita personale sia come diciamo studente persona tennista e secondo te sotto questo punto di vista sei migliorato da quando sei lì? ma sicuramente sono migliorato in tutto sia di vista vabbè ok come tennista sicuramente come come studente anche perché ho avuto un approccio completamente diverso rispetto a come studiavo prima e come persona qualsiasi esperienza di questo tipo ti fa crescere quindi non c'è dubbio abituarsi al ritmo di vita qua può anche rapportarsi con le persone perché rapportarsi con le persone qua in un'altra lingua ma proprio con persone diverse cioè vivono in maniera diversa hanno approcci alle cose diverse quindi comunque cercare di capire come rapportarsi con le persone è qualcosa che devi imparare e ti fa migliorare bene allora adesso volevo farti qualche domanda sul nostro lavoro come TS College Tennis quindi ti volevo chiedere insomma come è stato il nostro servizio se ti abbiamo aiutato se siamo stati sempre disponibili se sei contento di essere arrivato fino a San Francisco e insomma se ci puoi raccontare un po' di questo percorso che hai fatto con noi certo allora sì College Tennis sicuramente mi ha aiutato molto nella preparazione alla partenza e al diciamo al prepararsi in tutto cioè dal punto di vista universitario ma anche dal punto di vista tennistico quindi sapevo che diciamo College Tennis era informato riguardo a tutte le diverse possibilità che c'erano in America e sapeva i miei interessi e ciò di cui avevo bisogno quindi ero tranquillo che avrei poi trovato qualcosa che mi sarebbe piaciuto perché diciamo avevate a disposizione talmente tante comunque possibilità che ci sarebbe stato qualcosa che sarebbe stato perfetto per me dal punto di vista di tutte le procedure burocratiche e complicate sicuramente sono stato aiutato diversi problemi sono stati risolti nel tempo è un processo che sicuramente non è tranquillo per cioè è sereno per un ragazzo o una ragazza che vuole prendere partire perché ci sono un sacco di processi a superare e quindi è facile che in certi momenti diciamo ti domandi se è la cosa giusta da fare comunque è complicato non è un processo che sia banale che in una settimana hai risolto tutto esatto ci vuole un po' di tempo ci vuole tempo e quindi ci sono momenti anche difficili da superare non solo una volta che arrivi ma prima cioè bisogna volere secondo me per venire qua perché altrimenti ti fermi in qualche step in qualche cosa da fare però sicuramente se fossi da solo comunque se non avessi un aiuto è più facile che ti fermi durante quel processo se invece qualcuno comunque ti tiene sul pezzo e ti segue nel processo è più difficile che tu diciamo ti fermi nei diversi procedimenti ci sono diversi step e diverse ansie e difficoltà da superare quindi da quella burocratica a poi alla scelta dell'università perché chiaramente tendenzialmente avrai più possibilità tra cui scegliere e quindi non è banale scegliere cioè scegliere dove andare a vivere non è banale spesso perché non hai comunque aspetti troppo tangibili da poter valutare quindi cerchi di valutare dal punto di vista tennistico dal punto di vista universitario dal punto di vista di vita del luogo però ok magari San Francisco so che è una bella città però quando mi si parla di altre di università in America in altri stati io sicuramente non ho le conoscenze appropriate per valutare l'università o la scuola posso valutare posso vedere un ranking però anche lì i ranking contano fino a un certo punto cioè se non hai qualche conoscenza nell'università e non sai chi c'è stato prima o comunque se non conosci coach è molto difficile valutare il luogo e il posto per questo che college tennis comunque ti dà la serenità che diciamo hai qualcuno affidabile a cui diciamo poi poi dare in mano il tuo destino bene avresti magari un consiglio da dare a qualcuno che vuole intraprendere questo percorso ma sicuramente di farlo in anticipo quindi cioè se vuoi partire iniziare a pensarci perché anche nella tua mente è un processo lento non ci puoi iniziare a pensare all'ultimo quindi secondo me pensarci in anticipo iniziare a prepararsi mentalmente iniziare a parlare con qualcuno in questo caso cioè io mi iniziato a muovere neanche con troppo anticipato anzi un po' in ritardo però nella mia testa ero preparato cioè una volta che mi sono rivolto a college tennis sapevo ed ero convinto che io volevo partire tornarsi indietro forse inizierei diciamo a parlare un po' prima così che il processo magari è un po' meno ansioso rispetto a quello che ho avuto io perché comunque un po' l'ansia del fatto di non riuscire a partire magari cioè almeno io parlando con David lui non ha mai avuto quell'ansia lì o comunque però io che sentivo che i mezzi andavano avanti un po' sì ce l'avevo quindi magari mi muoverei un po' prima in anticipo pensandoci e parlando con con college tennis per poter diciamo vedere il proprio livello quale opportunità si possono avere perché muovendosi in anticipo sicuramente puoi anche valutare meglio quali sono le migliori opportunità iniziare diciamo a prepararsi in inglese sicuramente cioè se sei un'esperienza che si vuole fare partire da un livello comunque buono d'inglese ti aiuta non che tu non possa partire senza avere chissà quale livello d'inglese anzi però ti aiuta a stare un po' più tranquillo cioè una volta che arrivi comunque hai una base da cui partire migliore quello penso sia importante perché poi la comunicazione è alla base della vita giornaliera quindi questi secondo me sono due consigli basici ma che secondo me sono un po' i più importanti e comunque lo consiglieresti a un altro tenista italiano lo consiglierei a un altro tenista italiano ma completamente indipendentemente dal livello cioè lo consiglierei a un mio amico che ha un livello più basso ma se ha la possibilità di andare di andare perché ha la possibilità di utilizzare il tennis che magari al suo livello non ha mai pensato di fare chissà quale cosa ma lo può utilizzare come strumento per avere una grande esperienza la possibilità di partire e avere un'ottima esperienza ma anche a uno che ha un livello come me o anche a uno che ha un livello più alto di me perché comunque hai veramente l'opportunità in base a ciò che vuoi di trovare quello che diciamo ti sta meglio per te cioè in base ai tuoi bisogni trovi quello che sta meglio per te cioè se hai bisogno di giocare a tennis e di provare una carriera professionistica lo trovi se vuoi giocare a tennis solo per divertirti lo vuoi mantenere a giocare trovi qualcosa relativo magari non in divisione 1 però trovi qualcosa per te e se invece hai un livello comunque alto ma non altissimo quindi magari non sai più cosa fare nel tennis hai un modo per usarlo quindi secondo me è ottimo per chiunque beh io adesso lavorando un po' in questo settore posso comunque dire che di opportunità e possibilità ce ne sono diverse secondo me la cosa più importante è che il ragazzo prenda proprio questa decisione seriamente e che sia convinto al 100% che voglia farlo perché secondo me poi si aprono un sacco di opportunità come possiamo anche vedere te se possiamo prendere come esempio insomma probabilmente avrai in futuro prossimo tante occasioni sia operative che magari anche tenistiche a tua disposizione certo no essere convinti sicuramente è un po' alla base di tutto cioè essere convinti di volerlo fare è il primo step bene dai ti ringrazio e adesso quali sono i tuoi prossimi programmi? tra poco torni in Italia devi stare lì sì allora no per metà giugno torno in Italia tra l'altro con l'obiettivo di giocare la gara squadre in Italia perché anzi torno apposta tipo una settimana prima arrivo tipo due giorni prima della partita per poter giocare l'ultima del giro in Serie B per il Parc a Genova ok quindi sono contento di farlo quindi questo è il mio prossimo impegno quindi tornare per metà giugno e poi ritornare qua per metà agosto in quei due mesi lì in Italia la mia idea di giocare qualche torneo per comunque abituarmi sempre di più alle partite e giocare qualche future in doppio quello sicuro ho detto che in Italia ce ne sono diversi giocarne un po' bene allora io ti auguro il meglio sia adesso quest'estate per il tennis che quando torni in America è l'agosto e se hai bisogno di qualcosa sai che noi siamo sempre a tua disposizione e niente grazie per il tuo tempo veramente è stato fantastico grazie a te spero di esserti stato utile grazie a te grazie a te